PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una occasione che il mezzogiorno deve cogliere. È importante conoscerlo e sapere come funzioni a fornire lumi su questo importante strumento la Camera di Commercio di Taranto, durante una workshop al quale anche Confindustria Taranto ha preso parte. La Camera di Commercio insieme a Confindustria sono sempre molto favorevoli a consentire l'accesso non solo a queste misure ma anche capire come funzionano, qual è lo scopo per cui ci impegniamo attraverso proprio queste iniziative di portare a conoscenza delle imprese e delle aziende il risultato che il PNRR poi potrà dare fattivamente sul territorio. Servono le iniziative perché servono i progetti, perché se non si fanno i progetti i soldi non arrivano e su questo bisogna fare un plauso alla Camera di Commercio di Taranto, nella veste del suo commissario perché effettivamente tutto si può dire ma non che sia una gestione commissariata. Importanza dello strumento per il mezzogiorno, stanziamenti ed accesso, tra gli argomenti oggetto di approfondimento. Sicuramente il PNR è l'ultimo treno che abbiamo nel sud Italia affinché il gap venga eliminato del tutto con il nord. Dobbiamo essere veloci per quanto riguarda la spesa e quindi attivarsi immediatamente per la presentazione dei progetti e soprattutto trovare anche le risorse del personale necessarie per attuare tali progetti.